salve a tutti e bentornati su ernest channel web tv in un'altra puntata di sai che ciao valeria il sai che di oggi è un sai che artistico parliamo di arte sacra con lo scultore onofrio manghisi di cui si avvale del giornalista antonino piepoli in quanto è un artista molto timido e un po chiuso comunque sono entrambi di castellana grotte scopriamo l'arte e vediamo il video ma prima vi dovete iscrivere ancora al canale non l'avete fatto fatelo fatelo adesso e non dimenticate di mettere la campanellina che vi avvisa ogni volta che noi metteremo un nuovo video come stiamo facendo adesso e i video che vi piacciono consigliateli a tutti quanti e mettete mi piace va bene allora è arrivato il momento di vedervi questo bellissimo video e di queste bellissime sculture di questo artista castellanese salve a tutti il sai che di oggi è arte sacra siamo in compagnia con lo scultore onofrio manghisi e il giornalista antonino piepoli di castellana grotta salve a tutti siamo nell'atelier di onofrio manghisi nel centro storico di castellana onofrio un personaggio molto particolare per una vita è stato un imprenditore di successo e ha coltivato parallelamente la passione per il disegno la pittura e la scultura onofrio quindi come nasce questa tua passione come come unisci questo questo piacere per l'arte all'attività imprenditoriale no vabbè questo è stato un è un hobby che però ho iniziato da piccolo ho fatto ho lavorato nel laboratorio di mio padre all'epoca si si costruivano questi mobili intagliati per 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 i signori per i signori per che avevi soldi allora si 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 costruivano questi mobili qua tutti intagliati che ci voleva un sacco di tempo però poi piano piano diciamo che è cambiato tutto comunque la mia la mia passione è stata poi leggendo un libro di Gesù che mi sono affascinato da questo Gesù la storia di Gesù e ho iniziato a fare a fare l'arte l'arte sacra praticamente ho iniziato a fare i crocifissi l'intaglio è un'operazione naturale per chi ha lavorato in un laboratorio immobiliere le piccole sculture i volti le statue ma tu non ti sei accontentato sei andato oltre sei andato avanti hai realizzato delle statue che possono andare in processione possono essere messe nelle chiese ma qual è stata la tua opera più grande la tua scultura più grande onofrio no questa no questa è una più grande come potete vedere una è un Gesù che risorto è questo un Gesù risorto questo mentre mentre andavo a San Nicola ho visto quest'albero in noce e ho detto beh sono andato a trovare il padrone perché era un albero che era secco quindi sono andato a trovare il padrone e poi mi ha detto che devi fare quello si credeva che dovevo andare a fuoco no ho detto devo fare un crocifisso e quindi siamo andati con degli amici perché poi ho tagliato sono andato con le motoseghe abbiamo visto che il ragazzo lo voleva tagliare per fare la legna per il fuoco ho detto oh Carmen tu devi tagliare da qui da qui e da qui e così poi piano piano come potete vedere anche nella foto mentre lo stavo costruendo si vede la fotografia la fotografia come si vuole niente questa è l'opera più grande che ho fatto come grandezza quindi abbiamo visto la tua scultura più grande ma ce ne sono tante altre che ti rimangono nel cuore e dalle quali non vorresti separarti dici un po' quali sono queste sculture in legno che hai realizzato nella tua carriera la creatività è questa perché a vedere un albero ho tagliato un albero ho visto un cavallino io non ho fatto niente guarda un cavallino con delle narici naturali occhi naturali io l'ho soltanto modellato è un cavallino questo è un Gesù che è un cuore di Gesù fatto in nuce questa è nuce la Madonna è in Mogano questa Madonna è in Mogano poi abbiamo un busto un busto che si assomiglia a mia moglie un angioletto sempre in nuce e ne dovevo fare due di questi perché questi dovevano venire sotto a un tavolo infatti poi una volta che ho fatto uno l'altro non l'ho fatto più queste non vengono pantografate vengono fatte tutte con gli scarpelli a mano e quindi io non ho il pantografo il pantografo li sbozza io faccio tutto a mano ecco sempre vedendo i rami vedendo gli alberi allora guardando ho detto guarda quello è un uccello quello è una tartaruga un animale preistorico è straordinario la natura passiamo quindi alla parte finale e alla parte anche più sentimentale e intensa perché quando tu ne parli veramente ti luccicano gli occhi la tua vita è stata una vita molto forte molto intensa e quindi quando tu hai letto quel libro è cambiato qualcosa dentro di te quindi tu sei molto bravo in tutti i tipi di scultura però quando fai i crocifissi entri particolarmente in sintonia con l'opera e tu in tutti i tuoi crocifissi notiamo come il Cristo ha queste braccia tese a V è il classico crocifisso croato il crocifisso diciamo cristiano occidentale ha le braccia più orizzontali tu invece sei stato colpito da questa posizione delle braccia del Cristo e quando uno vede un crocifisso del genere soffre insieme al Cristo perché uno vede questo peso che va verso avanti ecco perché tu hai dato al crocifisso queste impostazioni con queste braccia tese a V allora voi dovete sapere che quando Gesù è sulla cruce tutto il peso del corpo praticamente Gesù è morto per soffocamento quindi il peso ecco perché le braccia le braccia li faccio così niente allora vi faccio vedere questo è un pezzo di lei che sto ultimando è praticamente è tutto intero il pezzo è tutto intero molti molti scultori viene fatto viene attaccato le braccia però io li faccio interi i lami devono essere interi collegati Onofrio è stato imprenditore come dice lui è un creativo è uno scultore oltre che un disegnatore è un pittore ma in questi ultimi mesi si è ritagliato anche il ruolo di operatore culturale è stato lui dopo 30 anni a riesumare le collettive dei pittori a Castellana quindi in pochi mesi sono state realizzate quattro mostre e Onofrio è sempre stato protagonista quindi notate come il suo spirito imprenditoriale è applicato all'arte sia pure in maniera dilettantesca lui non lo fa per guadagno lo fa solo per per amore dell'arte in quell'occasione nell'occasione della prima mostra che è stata fatta in municipio lui ha esposto una scultura che non è in legno in nessun tipo dei legni di cui abbiamo parlato ma è in vetro resina quindi addirittura si è lanciato in un'operazione veramente quasi industriale però realizzata come artigiano quindi raccontaci spiegaci questa statua realizzata in vetro resina con questo Cristo che oggettivamente potrebbe anche essere oggetto di una futura processione qui a Castellana no niente questi disolti li fanno in cartapeste ma io ho voluto cambiare tecnica con un vetro resina non contento Onofrio ha realizzato addirittura quella che anticamente si definiva una pala d'altare quindi Onofrio non si ferma assolutamente è innovativo in tutto allora Onofrio spiegaci questo pezzo finale di questa di questa scorreria che noi abbiamo fatto nel tuo atelier che cos'è questo pezzo? questo è Saul sapete chi è Saul? anticamente che andava andava alla ricerca dei cristiani infatti questo è San Paolo che poi è diventato è diventato con 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 San Pietro che hanno edificato la chiesa Roma abbiamo terminato qui dall'atelier di Onofrio Manghisi un salve a tutti voi ciao grazie a tutti Onofrio grazie per la tua disponibilità Antonino grazie anche a te sai che può interessare o coinvolgere anche te grazie a te Grazie a tutti.